Il PRG dal 18 gennaio è efficace in ogni suo contenuto per come è stato effettivamente adottato dal commissario ad acta. Fermo restando che non entrano dentro le prescrizioni vaste, non entrano dentro le osservazioni che sono state nel frattempo fatte e proposte dai cittadini, tutti adebimenti che sono demandati all'approvazione definitiva del piano regolatore generale da parte della Regione. La Regione sta lavorando in questa direzione, pensiamo che non dovrebbe passare molto tempo dall'approvazione definitiva, però il fatto è che i progetti che sono in essere o che verranno presentati in autorizzazione da ora in poi saranno valutati sulla base dei contenuti del piano adottato. E qui bisogna dire che ci sono alcune considerazioni da fare, nel senso che ci sono degli atti e degli adempimenti, delle zone in particolare, che rimandano all'approvazione di piani esecutivi e altri invece, piani esecutivi che sono elaborati ma che vanno aggiornati, vanno rivisti e qui c'è un lavoro da fare in questa direzione, per questo motivo io all'ufficio di piano che verrà attivato presto, proprio per mettere in condizioni poi di non perdere tempo ai cittadini perché questo rimando non è una buona cosa ed è uno dei punti negativi del piano regolatore generale che da ora, con il quale ora dobbiamo fare i conti. L'apporto della Commissione del Consiglio dell'Urbanistica in questo caso non è un apporto ma anche da parte della Commissione è una presa d'atto. Poi la Commissione lavorerà per valutare gli aspetti conseguenziali di questa entrata in efficacia, perché il termine corretto è questo, e non esecutività, l'entrata in efficacia del piano valutarne le conseguenze e valutarne anche le possibili azioni che sono da compiere perché le ripercussioni negative siano ridotte al minimo.